Salve a tutti, benvenuti nel mio canale di youtube. Oggi andremo a vedere un ottimo programma per analizzare tutte le prestazioni del nostro computer. A cosa serve? Prima di tutto il programma si chiama SPECI. SPECI serve praticamente ad analizzare il computer come ho detto prima e il cliente ci dice tutto quello che è installato nella nostra macchina dalla cpu alla ram, alla madre board, grafica, storage eccetera eccetera. E poi visualizza ci dice le varie temperature del processore, della scheda madre, della scheda video eccetera eccetera. Ok, questo è molto utile, se noi vogliamo fare un upgrade del nostro computer e non sappiamo che tipo di ram sono, noi tramite mediante questo programma gratuito possiamo vederlo. Allora basta digitare su google, io vi lascio in descrizione il link per fare download, andiamo su e download free version, lo andiamo a installare, eccolo qui, poi dopodiché facciamo il tasto destro, esegui come amministratore, si gli date tempo praticamente in base al vostro computer per analizzare tutto quello che deve analizzare e qui vediamo praticamente che noi abbiamo sistema operativo Windows 10 64 bit, abbiamo un i5 come processore che sta a 41 gradi, poi abbiamo 8 giga di ram in single channel, ok, poi c'abbiamo una scheda madre HP e abbiamo praticamente una scheda grafica Nvidia 1050 che in questo momento sta a 32 gradi, ok, poi abbiamo uno storage, poi abbiamo il classico masserizzatore masserizzatore della scheda audio, ok, se noi vogliamo per esempio fare un upgrade per quanto riguarda la ram, andiamo qua, ci da tutte le varie informazioni, noi basta che ci prendiamo questi dati, andiamo in qualsiasi negozio e compriamo praticamente un banco con queste caratteristiche qua, ok, questo è molto utile anche per analizzare ogni tanto le temperature del nostro computer, se vediamo che praticamente ha qualche problema, ha qualche, è molto, sentite che parecchio, le venturi sono sempre accese, qui possiamo analizzare le varie problematiche, poi se volete approfondire con tutte le varie analisi, c'è la versione a pagamento, che costa 8 euro e 10 mi sembra, ok, c'ha più, insomma più cose, ok, con questo tutorial è tutto, spero di essere stato utile, commenta il video, iscrivete al mio canale, se non l'hai fatto, ci vediamo il prossimo tutorial, ciao. Grazie.